Musica E questo penultimo fine settimana di luglio a Città della Scienza ha visto protagonisti i bambini non solo oggi ma anche domani, questo weekend infatti il tema dei laboratori è quello scelto per la scienza e creatività due realtà che sembrano apparentemente così lontane che invece i più piccoli accompagnati anche dai loro genitori potranno scoprire insieme ed essere così a dir poco complementari vediamo allora qual è il progetto e quali sono le attività previste per questo fine settimana per i più piccoli a Città della Scienza Chi pensa che sapere e creatività siano due mondi separati, questo fine settimana a Città della Scienza dovrà ricredersi Tema di questo weekend è infatti proprio la scienza creativa, un'iniziativa indirizzata ai ragazzi che potranno mettersi alla prova con laboratori che gli consentiranno di scoprire quale indole prevalga in loro quella da artista o da scienziato Ci stiamo divertendo tantissimo, abbiamo preferito al mare una giornata di approfondimento e di divertimento anche perché lo studio e l'approfondimento non deve essere staccato dal divertimento quindi penso che sia la cosa migliore per un bimbo di 5 anni Non solo laboratori però, infatti si potrà come sempre visitare il Museo Interattivo del Corpo Umano la mostra Insetti & Co. ed assistere agli straordinari spettacoli e planetario Museo Napoletano che fino a fine luglio organizza i campi estivi un'estate da scienziati tra gioco e sperimentazione attiva su coding e creatività Abbiamo accolto per tutta la stagione le famiglie con i bambini nel weekend offrendo sempre un tema diverso, declinando un tema diverso tra il ludico e il formativo per offrire ai bambini laboratori, attività, quindi gioco e divertimento per insegnare ai bambini e ai ragazzi qualcosa di costruttivo perché questa è sempre e da sempre stata la nostra mission Grazie mille